Le cronache più recenti lo vedono protagonista delle pagine di gossip al fianco di Federica Pellegrini, ma lui preferisce occupare i paginoni centrali dei giornali sportivi. Come è riuscito a fare nei momenti più belli di una carriera sfavillante? Ha macinato migliaia di chilometri in piscina, quasi due giri del mondo a forza di bracciate, ma tanti sacrifici sono serviti. Vieni che vai a prenderti l'argento e forza di più! È oro! È medaglia d'oro per Filippo! È stato il primo e finora unico italiano a salire sul tetto del mondo nella gara regina del nuoto, i 100 metri. Lui è Filippo Magnini, un pesarese illustre! La vita, istruzioni per l'uso. Filippo Magnini intervistato da Tony Capuozzo, vice direttore del TG5. Lunedì 29 agosto alle 22 in Piazza del Popolo. No.